Queste le parole della dottoressa Gao Yaojie ad una conferenza stampa. Dice di voler lasciare la verità alla gente del mondo. Ginecologa in pensione, la dottoressa Gao ha viaggiato per tutta la Cina per aiutare i malati di AIDS fin dagli anni 90. Anni in cui l'HIV si stava diffondendo nella provincia di Henan e dove il sangue era venduto in centri di trasfusioni malsani. A causa del suo lavoro, la dottoressa Gao ha subito anni di sopprusi e il regime cinese l'ha messa agli arresti domiciliari. La scorsa settimana ha presentato il suo ultimo libro, Disastro di sangue, 10.000 lettere. È una raccolta di migliaia di lettere ricevute dai malati di AIDS, dagli orfani di coloro che sono morti a causa dell'AIDS e da chi si batte per questa causa. La dottoressa Gao ha raccontato che il regime comunista cinese reprime gli attivisti dell'AIDS. Tentare gli attivisti con i soldi non funziona, neppure funzionano le ricchezze materiali, le case o le macchine. Quando non ci riesci in questo modo il regime comincia a reprimere, ti seguono, ti controllano, ti mettono agli arresti domiciliari. Se anche questo non funziona, come è stato per Ujia, ti mettono in prigione. La dottoressa Gao rifiuta la versione del regime cinese, secondo la quale l'AIDS si diffonde in Cina soprattutto attraverso le attività sessuali o la droga. Secondo le sue indagini, il 90% dei contagi avviene tramite le trasfusioni di sangue.